No dai rica Ma poi sto alert mentre gioca Margeo Horror Ma poi che cazzo è sto schifo Grazie Coriem Grazie ancora Ma cos'è sta roba Bodycam Boh Non hai cambiato la categoria vero Eh si l'ho scelto io Ma in realtà era della Era di Jade la lista E l'ho presa da lì Ancora Dai fammi cambiare la categoria E che non lo sento Se vuoi venire tranquillamente Come si chiama? Mimic Search Uno spittatore 35 follower sto gioco di merda Dai Se vuoi venire tranquillamente Qui Ti devo mettere qua Tocca appoggia la roba da qualche parte Sofìa In studio c'è Capo Guerra ragazzi E' quello che mi ha portato l'attrezzatura E sta facendo anche un video per Youtube Non per il mio canale ovviamente Ciao Max Sofia l'ho bevuta oggi una Red Bull Però non sto bevendo l'alcol Oddio quant'è alto il volume Ma tu sei matto Ce ne frega un cazzo Dai che è stato fatto sto gioco Oddio Oh volanti Vabbè ma non credo funzioni Ma com'è posi I should investigate the crime scene Che cazzo ordi Oh Ma si può scendere Hello A few hours ago We received an anonymous call from someone Reporting an abandoned car With a lot of foot next Investigate the crime scene After that drive Around an area Don't get corned red Mimic are highly trained predators Mimic Che cazzo vuol dire Chi è questo? So what have you got Big blood and nobody So probably a Mimic doing its work Quindi in questo universo I Mimic sono accettati Esistono davvero 37 anni Take care of it Yes that's why I'm here I'm tasked with finding I drive around the area Sound like a plan If you have a map of area On your top right now Yes I have a map Sounds good Va bene You will do Si madonna Più dialoghi di Dark Souls Ok The hand back of Ah ma quindi è una donna Cigarette Oh potrebbe essere anche un uomo però The victim car is staying inside Would have been safer Vabbè Bella Bel tip Tra l'altro lui sembra Henry Shevchenko Quindi che cazzo devo fare? Devo andare Devo andare A cercare sto Mimic Alla mappa? Ma non c'è No sta qua Io dove sto? C'è sta ma Con segnale sulla mappa Mamma mia Che gioco De merda Spero che almeno Faccia un po' paura C'è scritto Che dura 30 minuti Si Si What can I do for you sir There was a Mimic attack Just down the road Damn That's bad for the business Do you know anything That could help me To search Anyway well So everything Just always Really nothing at all Only Should be very careful Nowadays They're extremely good Pretending to be human Possa Ah beh il Mimic è quello che imita le cose È vero È quello che stava dentro le casse De 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 Dark Souls Mimic Mim Mimma Mim Mimma Mimma Mim Bella biru Eh no È vero però Quindi poteva essere quello lì Mi fa ridere che ci sia Ho scelto un gioco dove c'è sta il tizio al volante Porco due Proprio il giorno del volante Che cazzo è un motel Sì Sì è lui È festo Il cavo guerra Facceva RP Certo Come si chiama il personaggio tuo Cesare Spartaco Dov'è bene Mimic ci sei Ma è già sto bene Tutti quanti sono cos'è un Mimic Mimic comunque Infatti lui è un po' rotto Sembra Luke 4316 Con l'orecchione You could also follow the road Also read Thank you real time No non è Poli Poli è quadrato Andiamo Nord ha detto Ah voi è festo È lui È lui Ma se mi massero un volante Si farebbe toccare Come toccheresti il tuo volante Sarebbe un buco nero In cui guida verso l'uscita Ma Core Ma che cazzo Stai a dire Ragazzi Core Ma mi sa che c'è entrato nel mood Dalla chat Eh Io Però Non so dove sia il nord Allora facciamo un attimino Un discorso Gas station Motel Camping spot O avrei detto Trailer park Quindi se continuo ad andare a nord Arriva al camping spot Ok Mamma mia Ormai Quanti erano belli Giochi di una volta Che ti dicevano Un cazzo Dovi orientarti Senza niente No no è giusto È giusto Come faccio a far giocare l'ospite poi Come fa a giocare Come Che cazzo dici Ale Non è che Cioè non è che stiamo a mangiare un piatto Fai assaggiare anche a lui Cioè È un gioco Fisicamente Cioè È un po' difficile Ecco il camping spot No non sei tu l'ospite Ok Hello Is somebody there What do you want I'm police officer Ah sono il poliziotto We can talk That's no issue So you know anything That could help me out No Not me But the resolve Less guy Last night he came up To tent Some stuff about healing screams In the woods If you If you want Eh ok We Ok Devo seguire la strada Verso est Già ho capito Che è tutto È tutto Guidato Ho già a fare Di scoggi nostalgie Che iniziano Com'era quello Bello una volta Che con La squadra Di schi Cattiva Obbricità Fai guarda Io Già me so giocato Tutta la mia Credibilità Purtroppo Con la squadra Che tifo E comunque Vorrei ricordare A scroc Che Non è saltato Tudor Che cazzo Che cazzo Stai a di Ma chi è lui Ah il clochard Da dove venivano Gli urli Non è indica Da dove Da qui Non è il santone Dello svapo Cosa No Zero Ragazzi abbiamo già finito il gioco Ma questo è un po' a te C'è la porta aperta Dai ma non fa paura Sto gioco Ma che cazzo D'error è Oh Sto stai attento Mi faccio molto male Qua Ma non è un essere umano Questo che urla Cosa cazzo Di essere Wrong way Ma raga Sto andando nella direzione Dell'urlo Ma non arriva mai Ed è qua È qua Che cazzo è Non fa più versi Che vuol dire 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 Ciao Che vuol dire